ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di contatori del tempo un episodio dedicato al nuovo longjin legend diver il nuovo longjin legend diver nella misura da 39 mm ma non è solamente la misura della cassa a cambiare rispetto al 42 ci sono altri piccoli dettagli che vedremo poi nella panoramica in seguito avevo avuto occasione di vedere questo orologio già a marzo in anteprima sette mesi fa e fin da allora mi era entrato in testa questo tarlo il fatto di volere a tutti i costi questo orologio infatti come saprete entrerà sicuramente nella mia collezione devo solamente decidere quale colore di quadrante sì perché oggi a disposizione io entrambi il quadrante nero e il quadrante blu si tratta di un blu veramente scuro un blu notte un blu sobrio non è un blu acceso che va a discostarsi molto dal dallo spirito dell'orologio no che è un diver come si suol dire come si suol dire è la riproduzione dell'orologio che fu realizzato da longjin nel 1960 o negli anni 60 no da quel momento in poi è diventato diciamo iconico il longjin legend diver fino a qualche anno fa esisteva solamente la fino a oggi esisteva solamente la versione da 42 ma io qualche anno fa comprai proprio la versione da 42 nel 2018 o 17 se non vado errato poi la misi in vendita me ne liberai soprattutto per il fatto della diametro e il fatto che aveva il suo bracciale a maglia milanese e non un bracciale dedicato per secondo me era un pochino limite no ora con questo bracciale qua dedicato e la misura 39 mm ecco fatto che non ho più scuse per averlo in collezione e torno di nuovo ad avere un longjin legend diver in collezione devo solamente decidere ve l'ho detto entrambi gli orologi mi sono stati messi a disposizione da giacomo titolare della gioielleria pasquali domenici di viareggio che è titolare del marchio e ne ha già messi da parte una buona quantità sono già lì in pronta consegna quindi oggi esce legend diver da 39 e li sono già pronta consegna quindi per chi li vuole un buon numero c'è però insomma poi dopo riordinarli sarà un altro paio di maniche prima di guardare le dettagli lo studio di questo bellissimo legend diver da 39 vi mostro l'orologio del giorno che è un suo parente stretto eccolo qua il mio longjin skin diver 42 mm di diametro cassa calibro l88 però non certificato cost legibilità ottima e cassa molto simile al legend diver da 42 infatti io li ho avuti entrambi quasi contemporaneamente anzi no questo qua è arrivato dopo ha la stessa cassa ok del legend diver 42 simile con anse molto lunghe 42 mm come quello però avendo la ghiera sul sul quadrante la ghiera esterna mi riduce la l'ampiezza del quadrante ed ecco fatto che è molto più indossabile rispetto al legend diver da 42 che ha la ghiera interna tutto quadrante e spara molto io qua lo indosso con un cinturino di jonku strap è realizzato in cuoio con le punture chiare proprio in stile vintage d'inverno lo indosso così d'estate gli metto un nato arancione che spacca il mondo e ci divertiamo così lo porto anche al mare è uno degli erogi che utilizzo di più è questo qua ve lo devo dire sì 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 adesso giriamo la camera guardiamo il legend diver della longjin e poi ci troviamo qui come al solito per le considerazioni finali partiamo come al solito effettuando alcune considerazioni sui risultati delle misurazioni effettuate sul campo diametro cassa 39 mm spessore 12.8 ingombro trasversale al polso 47 mm e passo ansa da 20 mm si tratta di un risultato che ci restituisce una indossabilità eccellente stiamo parlando di un diver tutto quadrante senza ghiera esterna ritengo quindi che i 39 mm siano l'ideale per la stragrande maggioranza dei polsi la bug interna non determina infatti una riduzione dell'ampiezza del quadrante al contrario contribuisce e va considerata almeno visivamente come parte del dia stesso ben vengano quindi 39 mm di diametro generale altro discorso ad esempio per il mio longjin skin diver da 42 mm molto simile come cassa legend diver da 42 se non che nello skin diver è presente la ghiera girevole che riduce di molto l'ampiezza del quadrante e lo rende indossabile senza alcun problema altre considerazioni relative alle dimensioni lo spessore sotto i 13 mm è buono considerando i 300 metri di impermeabilità e considerando che gran parte dell'altezza è imputabile allo spessore del vetro che si erge dalla lunetta in maniera inconfondibile questo è uno dei tratti salienti di questo modello da sempre l'eseguità dello spessore percepito è quindi frutto della contenuta altezza del lato carour come si vede si tratta di una sinuosa sagoma satinata longitudinalmente che riesce a contenere anche l'altezza del profilo fondello il tutto termina in corrispondenza delle anse che sono sì proporzionate alle dimensioni globali ma nettamente più corte del modello da 42 mm e qui devo per forza di cose iniziare una comparazione con il suddetto modello quali sono le differenze tra il 39 mm e il 42 mm ebbene le anse più contenute permettono di avere un lag to lag più corto 47 mm contro 52 ma anche l'intera asse diminuisce e abbiamo un passo bracciale da 20 con anche un bracciale con finali dedicati sul 42 abbiamo solamente il bracciale in stile maglia milano con i finali dritti va da sé che nel 39 appare tutto più personalizzato passatemi il termine rispetto ad una maglia milano adattabile su qualsiasi orologio ci sono poi le due corone che appaiono cilindriche sul 42 e più sagomate sul 39 una soluzione che ingentilisce la silhouette e ricorda maggiormente i vecchi longin d'epoca fortunatamente è stata mantenuta la zigrinatura sulla faccia esterna un sapore tecnico barra industriale che io personalmente ho sempre apprezzato le differenze continuano poi sul quadrante innanzitutto la mancanza della data che rende il tutto più simmetrico proprio come nei modelli degli anni 60 per qualcuno sarà un minus per me è un plus ad onore del vero esiste anche una versione in bronzo del 42 che è senza data ma le versioni in acciaio presentano la finestra data ad ore 3 per la cronaca solamente per un paio d'anni attorno al 2009 fu realizzato il 42 acciaio no data e che io ricordi veniva venduto nell'usata ad un prezzo maggiore rispetto a quello con data ma se non bastasse anche il gioco sfera è completamente nuovo la sagoma di quella delle ore appare simile ma in questo caso è completamente ricoperta di super luminova e ne guadagna la leggibilità prima in determinate occasioni lo stelo tendeva a scomparire così come quella dei minuti parte stretta per poi allargarsi verso il bordo del quadrante in una insolita sagomatura che si differenzia da quella semplice del modello da 42 inoltre anche la sfera dei secondi cambia guadagna quel marker romboidale posto quasi sull'estremità che la rende piacevolmente scorgibile in qualsiasi situazione le differenze non terminano qua ma voglio spendere due parole sul quadrante in sé ho a disposizione sia il quadrante blu che quello nero e devo dire che la differenza non è così marcata si tratta di un blu notte che si mette in evidenza solamente in certe condizioni di luce mentre appare molto scuro e sobrio in altre in entrambi la finitura è semilucida più tendente all'opaco lo si nota nel momento in cui lo si paragona alla bag interna che è invece la finitura lucida e ci regala qualche riflesso qua e là il vetro zaffero è dotato di numerosi strati antiriflesso sia all'interno che all'esterno fattore che determina fortemente la buona leggibilità i riflessi cattivi vengono eliminati rimangono quegli scintillì creati dalle parti lucide che non inficciano il risultato anche perché ed ecco un'altra differenza il super luminoso utilizzato è bianco nel 42 mm era presente un pigmento tendente al beige atto a demulare l'effetto vintage che si ottiene con il passare del tempo va da sé che accenti chiari e fondo nero rendono il tutto perfettamente comprensibile non manca quel leggero effetto profondità che si viene a creare grazie ai numeri leggermente tridimensionali e soprattutto grazie allo scalino creato dalla ghiera interna rispetto al quadrante quest'ultima per chi non lo sapesse ha il compito di monitorare i tempi di immersione esattamente come una ghiera esterna e la si può manovrare tramite la corona posta ad ore 2 corona che è a vite come quella ad ore 4 e che appare facilmente manovrabile ed avvitabile cosa che nel mio vecchio 42 mm non succedeva insomma riassumendo un quadrante che guadagna in compattezza leggibilità e simmetria senza finestra data e con le sfere migliorate in quanto a visibilità visibilità che anche in assenza di luce appare eccellente con due differenti tonalità che vanno ad evidenziare i punti chiave triangolo su bug e lollipop compresi non ho ancora parlato del calibro che si trova all'interno ma prima spendiamo due parole sul fondello che come spesso accade per il long jean è cieco e ci restituisce quella sensazione di solidità sempre apprezzabile su di un 300 metri la prima cosa che si nota è il classico sub presente anche sugli altri modelli ma qui è in una differente postura la fioccina è posizionata diversamente rispetto al 42 un semplice trucco che ci permetterà di riconoscere il 39 dal 42 al volo inoltre è presente una grande sostanziale differenza rispetto al 42 ossia la dicitura chronometer officially certified un calibro certificato cronometro infatti si tratta dello stesso l888 presente sul 42 ma con un vestito differente nella sua versione più pregiata e decorata che va a rispettare gli standard di certificazione di un orologio cronometro la mia misurazione sul campo ha restituito il valore di due decimi di secondo al giorno un risultato eccezionale che va a scontrarsi con i tempi di reazione dell'essere umano in quanto diventa determinante la mia precisione barra velocità nel premere il pulsante di monitoraggio del tempo tecnicamente parlando il suo antenato lo si può identificare nell'eta 28 92 calibro che ha subito radicali modifiche nel tempo fino ad arrivare a questa versione realizzata in esclusiva per longin da segnalare che viene indicato chiaramente come antimagnetico è presente la dicitura sul fondello in quanto rispetta e supera i valori minimi necessari ad ottenere questa qualifica tra le caratteristiche da segnalare cito la spirale libera in silicio e soprattutto l'altezza di soli 3.85 mm parametro che consente all'orologio in sé di rimanere sotto i 13 mm di spessore generale passiamo infine a bracciale motivo per il quale mi sono da subito ingazzurrito quando lo vedi la prima volta finalmente un bracciale con finali complementari che mette in pensione il maglia milanese del 42 intendiamoci ritengo il maglia milano un bracciale alquanto piacevole specie se ben spesso come quelli utilizzati sui longin ma un bracciale dedicato è per me un valore aggiunto compatta l'orologio e lo rende maggiormente piacevole alla vista soprattutto come in questo caso nel quale il design a chicchi di riso trova la sua collocazione ideale sì lo so oggi è uno stile piuttosto di moda ma occorre ricordare che nella prima versione quella degli anni 60 era questo il bracciale utilizzato longin va semplicemente a rispolverare ciò che gli appartiene bello a vedersi e comodo al polso presenta dei punti sicuramente migliorabili per tenere unite le maglie sono presenti pina a pressione attenzione non fatevi ingannare dal disegno del profilo che sembra a vite lo si capisce anche dalle frecce presenti all'interno del bracciale stesso bene non ho mai riscontrato una così elevata difficoltà nel rimuovere i pin sono veramente ostici vi consiglio di armarvi di attrezzi adatti e di pazienza oppure di farlo fare da professionisti inoltre non è presente alcun tipo di regolazione micrometrica alla clasp ci sono i vecchi cari forellini che ci consentono di regolare la lunghezza in un orologio di questa levatura auspicherei qualcosa di più risulta comunque chiara l'elevata qualità di realizzazione lo conferma la cerniera interna spessa e ben realizzata e la scatoletta ultimamente rifinita con quella clessidra lata in rilievo che sembra quasi una spilla messa in un secondo tempo per impreziosire il tutto possiamo tornare in presa diretta per le considerazioni finali c'è di sicuro che entrerà in collezione dai c'è poco da dire devo assolutamente decidere se la versione nera o la versione blu mi prendo ancora qualche giorno per pensarci sopra è da quel giorno di marzo sono sette mesi che attendo questo orologio e finalmente è arrivato ce l'ho per le mani e non me lo lascio scappare i punti deboli elencati nel video no l'avete visti posso aggiungere che c'è una cosa un pochino che può lasciare un attimo perplessi ossia i finali della cassa che hanno una finitura leggermente differente rispetto alle ansie nel senso le ansie sono lucide e finali cassa sono satinati ecco ma anche a quella continuità visiva in quel punto lì però capisco anche che la continuità visiva è data dal fatto che le ansie sono sopra lucide e riprende il bracciale al centro lucido quindi è una scelta che hanno voluto fare però lì per lì ti rimane un po di differenza tra ansie e finali poi per il resto è un orologio di qualità voglio dire certificato cronometro 300 metri di impermeabilità tutte le caratteristiche che ci devono essere ci sono secondo me rispetto al 42 è una miglioria è un miglioramento dai c'è poco da dire non riesco a trovare una caratteristica del 42 migliore che mi venga in mente però se ci fosse stata anche qua no secondo me questo qua è il legend diver definitivo chiaramente è una mia supposizione non ho notizie certe ma verrà sicuramente poi declinato in altri colore quadrante magari in altri materiali in bronzo in titanio ma per me più più che sufficiente questa questa versione qua in acciaio e secondo me è la versione definitiva mi sembra di aver detto tutto forse sono stato troppo entusiastico nel presentarlo ma a me piace quando un orologio mi piace io non mi interessa se sono troppo positivo positivo e poi insomma su di fetini c'è gli agli ho detti mi sembra no ma bu a me piace e sarà mio vi ringrazio per essere arrivati fino a qua e non mi resta che ricordarvi gli appuntamenti fisiche come sempre sono quando voglio io il più spesso possibile qui su youtube love musica musica musica